Come guadagnare più soldi? La maggioranza delle persone desidera guadagnare più soldi, eppure non sa quali sono le azioni da compiere per guadagnare più soldi. Per la maggioranza, appunto, i soldi sono legati ad azioni specifiche che però non portano risultato. Queste azioni sono, ad esempio, pensare di raggiungere i titoli accademici, quindi studiare. Studiare di più ti permette di guadagnare di più, si pensa. Non è così. Ci sono miriadi di persone che hanno diplomi o lauree o master o dottorati che fanno la fame. Ci sono medici, avvocati, commercialisti, architetti, personal trainer, specialisti, consulenti, che nonostante abbiano dei titoli, delle certificazioni importanti, non sono in grado di guadagnare abbastanza. Non sono nemmeno in grado di guadagnare il minimo che potrebbe servire loro per poter portare avanti l'attività. Fanno letteralmente la fame. Per altri, il guadagno di soldi è legato alla fortuna, quindi lotteria, gratta e vinci, quindi attività di questo tipo, niente di più sbagliato. Quindi, i soldi non si possono guadagnare attraverso quelle che sono le credenze popolari, perché altrimenti la gente riuscirebbe a farlo, no? E i soldi non seguono nemmeno il bisogno. Voglio dire, le persone bisognose, le persone in povertà, avrebbero bisogno di soldi, no? I soldi però non seguono questo. I soldi non seguono il merito. I soldi non seguono la religione, non seguono il sesso, non seguono la cultura, non seguono queste cose qua. I soldi si possono ottenere, si può guadagnare di più se si mettono in pratica delle azioni specifiche. In questo video voglio rivelarti ben 5 azioni che ti possono permettere sicuramente di guadagnare di più. Quali sono queste azioni? Allora, ho detto che i soldi non seguono le necessità, ma seguono qualcos'altro. Che cosa di specifico? Il guadagno è legato alla creazione di valore. Ossia, io posso avere più guadagno se faccio, se creo più valore. Cosa vuol dire più valore? Lo vediamo in queste 5 fasi, in queste 5 azioni. Prima cosa, se voglio guadagnare di più o se vuoi guadagnare di più, prima cosa da fare, legata a questo principio, devi aggiungere valore al prodotto o servizio che offri. Per fare un esempio, supponiamo che tu sia nel settore immobiliare. Vuoi guadagnare di più dalla vendita dei tuoi mobili o dall'affitto degli tuoi immobili. Cosa puoi fare per poter aggiungere valore al tuo prodotto? Magari potresti ristrutturare questi immobili, piuttosto che migliorare delle finiture. Oppure potresti aggiungere degli elementi che potrebbero sicuramente dare più valore, quindi essere percepiti come migliori dal mercato. Il mercato sarà risposto a spendere più soldi con te. Questo vale anche magari per i servizi che offri. Puoi chiederti come posso migliorare il servizio che offro ai miei clienti. Facendoti questa domanda sicuramente potrai capire dove intervenire e se intervieni aggiungerei valore al tuo prodotto o servizio e porterai sicuramente a casa più soldi, perché avrai percepito come migliore, inevitabile. Seconda cosa, aggiungi valore al processo. Ora, la maggioranza delle persone si limita ad eseguire delle azioni, ad eseguire dei processi. Mettiamo l'ipotesi che ci sia un'azienda. Quest'azienda ha degli operai e ha dei manager, quindi delle persone di responsabilità. Qual è la differenza tra i due? Il manager è pagato per cercare di migliorare i processi, fare in modo che i risultati possano avvenire nel più breve tempo possibile o con le minore risorse possibili, ma con il massimo risultato, la teoria dell'efficientamento massimo. Quindi è pagato per pensare i processi, per cercare di sviluppare dei miglioramenti. Mentre l'operaio, solitamente, è abituato a pensare ditemi quello che devo fare e io lo faccio. Non si sforza di aggiungere valore. Chiaramente non sto parlando in maniera assoluta, perché ci sono persone fantastiche tra gli operai e ci sono persone scadenti tra i manager. Su questo non ci piove. Però il principio è, un responsabile, un manager, è pagato perché deve cercare di migliorare il processo. Quindi lui prende più soldi perché lui porta più valore al processo. Processo produttivo, processo di efficientamento e tutto il resto. Mentre un manovale, un esecutore, un impiegato esecutore, un operario esecutore, è pagato per eseguire. Questa situazione, quindi l'aggiunta di valore o meno, porta chiaramente a una differenza nel guadagno percepito. È chiaro che l'operaio, che invece vede la necessità di migliorare un processo e porta a un miglioramento, ha la possibilità di fare una carriera che lo porta a guadagnare di più. Perché sicuramente chi dirige ha lì tutto l'interesse che lui possa continuare a migliorare i processi dell'azienda. E quindi quanti hanno fatto carriera partendo da operai e sono diventati manager dell'azienda o amministratori delegati d'azienda? Tantissimi, ne conosco veramente tanti. Ora, la domanda da fare, quindi se tu ti trovi in una condizione di questo tipo, è chiederti, non solo come dipendente ma anche come imprenditore, come posso rendere più efficiente il processo? Verso i clienti? Come posso dare ai miei clienti qualcosa di più? Magari risparmiando i tempi, riducendo i tempi, l'attesa, magari migliorando il processo. Come posso dare al cliente di più? Non sto parlando del valore intrinseco del prodotto, magari tu vendi una commodity. Però, non so, il processo di consegna, il processo di evasione degli ordini, come posso migliorare affinché il cliente percepisca maggior valore e quindi sia disposto a darmi più soldi? Questa è la domanda che devi farti. Aspetto numero tre. Devi aggiungere valore alle vendite e al marketing. Pensa bene. Le vendite e il marketing sono le attività che portano a casa il denaro per l'azienda. Il marketing crea promozione, cioè lavora sul mercato affinché possa rendere educato il mercato e portarlo a desiderare il prodotto o servizio. La vendita converte le richieste in vendite, quindi porta a casa il cash, il denaro. Pensa un attimo. Supponi che tu hai la capacità, attraverso il tuo marketing, di convertire un cliente su dieci. Cioè di portare a casa, nella tua campagna pubblicitaria, nella tua campagna di marketing, un cliente su dieci contattati. E magari nelle vendite di convertire un cliente su dieci. Come sarebbe se tu migliorassi la tua capacità di creare marketing, ad esempio attraverso una landing page? Migliorando il copy, quindi aggiungendo valore al tuo marketing, migliorando il copy riuscisci a convertire due clienti su dieci. o migliorando la tua capacità di closing, di chiusura nelle vendite, soprattutto quello che io insegno nel mondo high ticket, quindi la chiusura high ticket, il closing high ticket, potessi convertire anziché uno su dieci, due su dieci. Significherebbe raddoppiare i risultati, sia in termini di conversione nel marketing, sia in termini di vendite. Semplicemente perché sono passato da uno a due, sia su uno che sull'altro. E come è stato possibile? Chiaramente aggiungendo valore alle mie competenze di marketing e aggiungendo valore alle mie competenze di vendita. I risultati alla fine sono strabilianti, semplicemente perché ho aggiunto valore. Quarta azione da compiere. Aggiungi valore alle persone. Ora, ciascuno di noi viene pagato sulla base del network che possiede. Stai ben attento. Che tu abbia uno stipendio o no, che tu sia provvigione o no, che tu sia un titolare d'azienda o un professionista o un venditore, tu sei pagato sulla base della qualità del tuo network. Per network intendo la lista di contatti che hai, il tipo di persone che hai e la qualità di queste persone determina appunto quello che tu ricevi. migliorando il tuo network, tu migliori per forza di cose i tuoi guadagni. Se tu ti circondi di persone che sono di poco valore, le tue entrate saranno di poco valore. Aumenta il valore del tuo network, quindi della qualità delle persone, pensando ad esempio a persone che sono in grado di spendere di più, sono in grado di darti più ordini, quindi di comprare di più da te e automaticamente tu guadagnerai di più. Inevitabilmente. Ora, molti potrebbero pensare sì, però il mio network non è di grande qualità, questo ho io a livello di persone, di relazioni. Ecco, non devi accontentarti, non puoi trovare fuori la scusa nel dire questo è il network che ho e non posso farci nulla. Il tuo network non è le relazioni che hai, cioè tu non puoi pensare di basarti su quello che ti arriva, non puoi basarti su quello che hai creato nel tempo, magari il tuo portafoglio clienti, vi dicendo. devi invece fare in modo di cercare altre relazioni, devi creare altri network, devi creare altre connessioni. Maggiore sarà la qualità delle connessioni che creerai, maggiore la qualità del network che tu creerai, e maggiori saranno i tuoi guadagni, perché è sempre una questione di valore. Quinta azione. Aggiungi valore a te stesso, proprio così. L'asset più importante su cui dovrai sempre investire, sarai te stesso. Acquisire formazione, quindi studiare, acquisire competenze attraverso la formazione che ti permettono di diventare una persona migliore, non ha prezzo, perché ti premierà sempre. Tu potrai avere oggi un prodotto da vendere sul quale potresti avere un'esclusiva, però domani arriva la concorrenza che lo ripropone a un prezzo più basso e sei fottuto. Invece il tuo asset, la tua preparazione, la tua formazione e preparazione, competenze e abilità, non può rubartela a nessuno. È ciò che ti rende unico o unica nel tuo mercato. Perciò quello che devi fare è acquisire competenze nuove. Ad esempio nella vendita ai ticket hai la possibilità di acquisire una competenza nelle closing, nella chiusura di vendita ai ticket, che significa vendita al prezzo più alto del mercato, che i tuoi concorrenti non hanno. E quindi attraverso ad esempio la formazione che io faccio puoi diventare abilità nel chiudere delle vendite ad alto valore con prezzi premium, significa prezzi più alti del mercato, senza fare sconti, senza rincorrere i clienti con le offerte, senza rincorrere i clienti per email, soprattutto facendoti pagare prima, perché con la vendita ai ticket ti fai pagare prima. Tutto questo però è possibile se tu investi in te stesso, se aggiungi valore a te stesso o a te stessa. Con questa azione sicuramente tu potrai guadagnare più soldi. 5 azioni che ti permetteranno quindi di aumentare i tuoi guadagni. Se vuoi saperne di più su come poter migliorare le tue entrate attraverso il mondo ai ticket, attraverso la vendita ai ticket, il closing ai ticket, non devi fare altro che partecipare ad un webinar che ho preparato, al quale puoi partecipare gratuitamente. C'è un limite di 50 persone dettato dalla struttura del software, però se tu ti iscrivi adesso puoi probabilmente trovare un posto libero. Trovi il link per l'iscrizione qui sotto o sopra a seconda di dove stai guardando questo video. Iscriviti per partecipare a questo webinar e ti mostrerò come puoi tu creare nel tuo mondo, nel tuo business, la vendita ai ticket, acquisire le competenze che ti servono per vendere a prezzo più alto e farti pagare prima, senza insoluti, senza più problemi di sorta. Se invece sei solo curioso di saperne di più sulle tecniche di vendita, di marketing e di negoziazione, non devi fare altro che iscriverti al mio canale e continuare a seguirmi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.